ok credo che siamo in diretta credo che siamo in diretta quindi io saluto tutti gli spettatori collegati ora aspettiamo giusto quei 10 15 secondi in modo da vedere se se tutto funziona se mi sentite bene magari lasciatemi pure un commento per dirmi se è tutto a posto eccoci siamo in diretta adesso siamo in diretta buonasera a tutti buonasera benvenuti sul mio canale come vedete questa sera siamo in compagnia di un ospite che davvero ci tenevo tanto ad avere sul canale perché ci potrà dare moltissime informazioni che anch'io diciamo ero tanto curioso di avere vi rinnovo il benvenuto buonasera a chi ci sta guardando in diretta buonasera a chi ci guarderà successivamente indifferita e se diciamo se è la prima volta che che ci vedete diciamo sappiate che siamo persone diciamo che non mordono per cui restate con noi tranquillamente e vedrete che passeremo una buona serata allora come dicevo come vi abbiamo fatto sapere i giorni scorsi e io sono qui con emilio che esatto che ci saluta ciao sera emilio ecco emilio come vi dicevamo è un italiano che risiede da diverso tempo alle canarie quindi chi meglio di lui ci può dire come si vive sull'isola quindi direi che direi che è la persona adatta vedo che io ancora non capisco bene se ci se diciamo se tutto è apposta se ci sentite caso mai lasciateci un commentino che sotto e ci aiuta a capire se tutto ok apro velocemente una parentesi vi ricordo che se volete commentare c'è la necessità che siate iscritti al mio canale quindi eventualmente e iscrivetevi aspettate circa un minuto dopodiché potrete commentare ecco quindi di nuovo buonasera emilio io buonasera a te simone davvero ecco carlo alberto ci fa sapere che è tutto ok grazie meno male grazie bene dicevo che se diciamo che la cosa ideale per noi adesso è diciamo presentati a chi magari ancora non ti conosce a me sembra strano perché in tanti saranno io davvero mi sembra un po strano però vediamo anche silvana ci conferma che si sente tutto perfetto dunque dicevamo emilio tu risiedi alle canarie da una decina di anni giusto 10 anni il prossimo 15 giornali ottimo quindi diciamo una data abbastanza vicina esatto possiamo dire che sono 10 anni sì diciamo sì perfetto e appunto in questi 10 anni io come molti altri immagino ti ho conosciuto per le attività che tu continui a portare avanti sul web cose davvero molto interessanti io so che tu hai un blog che si chiama appunto italiano alle canarie l'indirizzo è italiano alle canarie punto com nel quale dai delle informazioni davvero molto complete non solo sull'isola di gran canaria ma anche in più in generale sull'arcipelago un blog informativo incentrato su gran canaria ma anche sul resto dell'arcipelago bello davvero molto bello e tra l'altro le informazioni che si trovano su questo blog non sono quelle che tu dai non sono proprio così diffuso in rete ecco di solito si trovano un po delle curiosità delle cose a cui magari c'è un po di tutto da dall'aspetto turistico dei viaggi alla vita al costo della vita gli affitti c'è un po di tutto a 360 gradi diciamo molto molto interessante e poi diciamo in maniera da speculare e tu hai anche un canale youtube se non non starei qua esatto e si chiama appunto italiano alle canarie guarda caso esatto giusto per non creare confusione esatto davvero molto interessante io appunto ti ho conosciuto prima per il canale perché appunto youtube pure io ti ho conosciuto youtube ha fatto il giochetto insomma fatto la magia esatto esatto e poi ultimo ma non meno importante so che scrivi anche per una pagina diciamo piuttosto importante una pagina facebook che si chiama leggo gran canaria esatto io la scrivo faccio tre quattro dipende da quanto tempo ho tre quattro cinque post al giorno informativi per cui chi affoglia può vedere tante informazioni là sopra sempre relative a gran canaria e all'arcipelago certo davvero davvero interessante poi diciamo subito che al termine della diretta modificherò la descrizione del video in modo che possiamo pubblicare i link alle tue pagine ok eventualmente che ci sta seguendo che ci seguirà potrà vederle insomma io vi consiglio veramente di andare a vedere perché si trovano informazioni sulle canarie molto interessanti e ecco quindi possiamo cominciare subito con le domande ci saluta anche milena che salutiamo ciao milena grazie ci fa anche sapere che si sente tutto perfetto grazie questo ci rincuora esatto ma prima ancora di partire con con l'intervista diciamo togli una curiosità ma da voi adesso a gran canaria che tempo fa oggi che non te lo posso far vedere c'è il sole qui sono le sette e cinque siamo un'ora indietro siamo con l'orario di londra praticamente certo certo e il sole ieri non c'era per esempio era stato un nuvolo tutto il giorno io sono alla spalmas nella capitale ok adesso ci abbiamo ancora un paio di ore di luce qua di luce che bella cosa in estate comunque aumenta un pochino giusto l'ora di luce disposizione solare diciamo ecco con l'ora legale fino alle nove un quarto 9 20 abbiamo luce 9 un quarto ovviamente ora canaria sì sì chiaro 10 un quarto in italia e la mattina alle 6 5 40 6 meno un quarto così diciamo che in estate rispetto all'emilia dove vivo io non c'è moltissima differenza da questo punto di vista anche noi fino alle 9 un quarto così abbiamo luce d'inverno cambia un po qui viene buio molto prima assolutamente e come temperature diciamo d'inverno fa giorno tardi tra virgolette diciamo tra le sette e mezza alle otto del mattino e poi il pomeriggio diciamo alle sei sei e mezza e notte quindi sì c'è magari un pochino più di luce di sera soprattutto rispetto a noi sempre così sì sì quello sempre esatto molto molto interessante questo anche queste differenze che però ci aiutano a capire comunque ecco gran canaria ha una media di 3.600 ore di luce all'anno che non sono sono più di quelle che si possono trovare in una città del sud tipo palermo in italia sì sì assolutamente ma tu diciamo immagino tu insieme alla tua famiglia cos'è che ti ha portato a gran canaria come mai avete pensato proprio a gran canaria il discorso lo facciamo un po in sintesi perché sennò sarebbe lungo certo allora diciamo che lei questa era l'opzione c ma neanche la b la c perché la prima opzione sì perché la prima opzione era andare a vivere in inghilterra madre mia in inghilterra o in scozia cosa completamente diversa cosa completamente diversa perché a me soprattutto piaceva quel tipo allora adesso un po meno è diciamo questo qualche anno fa adesso le cose sono cambiate un po dappertutto anche in inghilterra sono cambiate eccetera eccetera mi piace mi sarebbe piaciuto andare là tra l'inghilterra o la scozia ma poi un po per il clima ovviamente non adeguato con la passare degli anni perché non sono più un ragazzino e soprattutto per il tema economico che è tutto ovviamente molto più costoso e con la mia pensione non ci arrivo assolutamente non ci arrivavo e non ci arriverei neanche oggi abbiamo scartata certo dopodiché abbiamo c'era mi è sopra mi era venuto in mente o c'era venuto in mente di andare negli stati uniti stati uniti perché stati uniti per lavoro e per di e per vacanza conosco abbastanza bene e dunque anche là anche se più appordabile a livello economico ma comunque c'era un problema per la residenza dovevi fare la green card sei mesi dentro sei mesi fuori mantenere le abitazioni abbiamo scartato anche quella e allora abbiamo pensato io sono stato anche in Spagna a lavorare perché ho detto ma vediamo un po la Spagna anche perché parentesi o vado in un posto dove si parla inglese o dove si parla spagnolo io conosco bene queste due lingue e allora lì parare una terza lingua locale da qualsiasi altra parte non ce la faccio più oramai è sufficiente quello che ho acquisito e quindi la Spagna penisola canarie canarie sono più economiche vantaggiose e alla fine sono approdato qua quindi avete immagino fatto un viaggio o più viaggi esplorativi abbiamo fatto un viaggio esplorativo nel 2014 nel 2000 sì nel 2014 sì esattamente a ottobre 2014 immagino che questo viaggio sia durato un certo periodo di tempo non tantissimo perché eravamo abbastanza preparati avevamo studiato cosa che molti non fanno quando vengono qua avevamo studiato precedentemente acquisito informazioni eccetera eccetera dunque siamo venuti abbastanza preparati poi ci siamo siamo stati supportati da queste agenzie in loco che fanno tutti i servizi benché non avessimo il problema della lingua però ovviamente non conoscendo le procedure e tutto quanto dico sai che c'è se ce lo fanno tutto loro è meglio e così è stato siamo stati dieci giorni ah ok ok quindi questo periodo di tempo è un periodo che tu consiglieresti anche eventualmente ad altri che vogliono fare questo percorso o alla luce del fatto che per te è durato dieci giorni consiglieresti di più come periodo ma io direi che dipende da come da come da quello che cerchi e cosa ti aspetti e soprattutto anche dipende da da cosa da cosa vuoi sei nel senso che sei preparato a fare questo grande salto sì o no innanzitutto ce l'hai la voglia sei veramente convinto di volerlo fare oppure no oppure ah sì voglio andare voglio andare poi come ho visto tanti ma però sa c'è questo c'è quello c'è ho capito allora non c'hai voglia è solo un capriccio forse non lo so come dire sì sì potrebbero essere sufficienti ma venire preparati preparati significa avere un background informativo dietro alle spalle che già vieni con una certa conoscenza e poi quando stai qua non vai al mare vai a scoprire il territorio e tutte le varie situazioni poi se ti appoggi a qualcuno che ti può aiutare che non ti ruba i soldi tra virgolette perché poi c'è anche questo e allora va bene diciamo che un paio di settimanelle macinate toste come si dice non andare alla playa ma fare quello che devi fare allora sono più che sufficienti certo e poi venire con un se proprio vuoi venire non venire allo sbaraglio ma vieni con un salvadanaio adeguato perché ovviamente sì questo è sempre molto importante lo dicevamo anche nelle dirette precedenti diciamo che troppo spesso si legge magari sui social che tante persone vanno davvero un po lo sbaraglio proprio due mesi scusa due giorni fa leggevo di un ragazzo giovanissimo che in un gruppo di italiani mi pare a tenerife chiedeva se era possibile trasferirsi e campare i primi tre mesi con 2000 euro quindi questa era un po la sua domanda le risposte le puoi immaginare cioè tutti gli dicevano di no perché oggi come oggi assolutamente no però c'è ancora dieci anni fa dieci anni fa forse sì c'è ancora quest'idea diciamo che sia una meta low cost quindi a basso cost di low cost qua secondo me non c'è più niente ma manco gli aerei immagino perché solo gli aerei costano infatti costano gli aerei se tu vuoi venire perché abbiamo avuto anche insomma amici parenti che volevano venire qua per per capodanno o per natale eh ma se vieni in due persone solo l'aereo con Ryanair partendo da Roma stavo a Roma per cui mi relaziono con Roma 600-700 euro andate in ritorno quindi ragazzi in condizioni diciamo normali magari lo trovi a 150 chiaro ma non più magari a 40 euro come era capitato difficile difficile io sette anni fa avevo fatto un volo mi ricordo per Fuerteventura eravamo in due avevamo speso 72 euro poi c'è scusami c'è pure da dire questo ovviamente per esempio se lo fai da Roma Roma c'è solo Ryanair ma anche da diciamo anche se vai da Ori al Sierio o da Pisa o da quell'altra che non mi viene adesso non mi viene Bologna credo magari ci sono più connessioni e i voli possono costare un pochino di meno Roma è un po' un caso a parte ci sono solo due connessioni a settimana e se in orari anche certe volte assurdi tipo 5 e mezza 6 di mattina dunque ti devi alzare alle due alle due e mezza sì queste sono le politiche delle compagnie low cost purtroppo a volte fanno rari purtroppo con voli diretti praticamente il monopolio ce l'ha solo Ryanair se invece vuoi andare con Iberia, Rufthansa, amo quello che mi viene in mente British Airways le grandi compagnie devi fare sempre uno scalo certo perché la stessa Welling che è una low cost non c'è i voli diretti con no forse con Roma sì con Roma sì no ce l'aveva ce l'aveva non ce l'ha più con Tenerife magari ci sono ma con Gran Canaria no io ogni volta che valuto diciamo le tariffe e le rotte per venire giù Welling passa da Barcellona sì è uno dei motivi per cui non la prendo nel senso che alla fine lo scalo se posso evitarlo lo evito quindi certo neanche Welling ha il volo diretto anche perché se fai uno scalo dove lo fai lo fai o a Madrid o a Barcellona alla fine ti parte una giornata ah sì diciamo che già ti parte se non lo fai nel senso che in base all'orario con il volo diretto magari qualcosa ci guadagni ma se fai lo scalo parti la mattina e arrivi la sera assolutamente sì è così è così quindi non parliamo poi se magari uno non si ferma a Gran Canaria ma deve arrivare su un'altra isola ancora ah esatto ancora peggio Palma Ierro allora lì proprio ci vuole la giornata di 20 ore esatto c'è Bitter Canarias che fa il collegamento da da Firenze e da un'altra città che adesso non mi viene Torino mi sembra mi sembra Torino no Venezia Torino non lo sta facendo Venezia si può essere Firenze e Venezia c'è il volo diretto una volta a settimana comunque si li fanno pagare eh sì sì si volerà anche bene immagino però però si vola bene perché hanno un aereo si chiama l'Embra R a due file non c'è il posto di mezzo sono solo due file con due posti per ogni fila c'ha il gourmet c'ha l'aperitivo gourmet insomma è interessante un trattamento sì un trattamento migliore e poi per chi vuole andare per esempio se vieni a Gran Canaria con Binter e poi non è la tua destinazione finale devi andare o a Tenerife La Palma dove sia il volo sempre con Binter da Gran Canaria a La Palma o a Tenerife non lo paghi è gratis c'ha questa politica è vero infatti quindi anche questo va messo nel conto perché esatto diciamo che a conti fatti non è detto che costi tanto di più la Binter però in generale comunque i costi aerei sono aumentati tanto e fornisco anche le Canarie non forne eccezione esatto esatto alla luce di tutto questo che abbiamo detto delle cose che diremo poi tu oggi lo rifaresti come passo se dovessi farlo oggi per rivenire alle Canarie sì supponiamo che tu vada in pensione oggi pensi che lo rifaresti è ancora un luogo attrattivo oppure alla luce della mia esperienza o se non non sapendo niente alla luce del fatto che abbiamo detto che costi aerei sono aumentati che l'idea delle Canarie come luogo a basso prezzo non è più così se tu oggi dovessi trasferirti lo faresti ancora nì come si dice nì 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 nel senso che è da valutare bene perché in questo momento le Canarie cioè le Canarie non sono per tutti a livello sono per tutti detto proprio brutalmente va bene per tutti se c'è i soldi ah chiaro ecco se i soldi sono pochi le Canarie non sono per tutti si può pagare sempre tutto se hai se vieni qua da pensionato e vuoi venire con mille euro al mese secondo me no ma proprio soprattutto se devi pagare un affitto certo proprio no ma proprio no ricordo anche un video specifico sul tuo canale in cui lo spiegavi il fatto che con mille euro non si vive più ma non lo dico io basta basta informarsi bene vedere e le cifre sono quelle se ti dico solo questo quando sono arrivato io qua nel 2015 gennaio inizialmente stavo in un bungalow giù al sud di Gran Canaria vicino come si chiama Playa dell'Aquila la conosci forse tu vicino Playa dell'Inglese per capirci a San Agustin quelle zone là ok 50 metri quadrati circa fronte mare fronte oceano bello eh pagavo 550 euro bollette incluse incluse beh niente male niente male niente male adesso sono 950 bollette escluse però possiamo dire il doppio esatto possiamo dire il doppio per esempio un'altra cosa adesso con 550 lo dico perché eh c'ho le l'esperienza di mio figlio mio figlio se n'è andato se n'è andato adesso sta vive qua vicino in un appartamento vive comunque sull'isola giusto sì 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 vive qui alla spalla sta a dieci minuti da qua a piedi non è che non è che è andato molto lontano vi è stato vicino molto bello è vicino però vive in un appartamento in una stanza a condividere con altre persone e la stanza sta in un buon contesto appartamento ristrutturato ristrutturato sì in italiano stavo vivendo riformato ogni tanto esce lo spagnolo esatto lo spagnolo scappa eh sì perché parlo più spagnolo che italiano certo è normale assolutamente quindi e lui paga 450 euro per una stanza bollette escluse dunque però 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 sì sta sta in un bel appartamento sta diciamo in una zona centrale commerciale tutto quello che volete ma voglio dire se vai in un'altra zona e vuoi spendere meno so 50 euro in meno non è che e poi e poi che in realtà trovi non lo so certo perché sì quello che esatto sì quello che ci vuoi dire è che comunque queste tariffe non subiscono miracoli cioè è difficile che si rimezzino ecco assolutamente e comunque circa 1000 euro al mese o i 1000 euro al mese da pensionato neanche da solo con un no no poi qualcuno non è così però no certo invece magari per chi ha la possibilità di acquistare una casa di proprietà le cose migliorano un pochino eh beh certo migliorano un pochino ma devi fare i conti anche con i prezzi degli immobili che sono schizzati quindi è vero che se ti compri un appartamento diventa tuo non hai più diciamo tutto diciamo che ipotizzato la pensione di 1000 euro però poi però poi per esempio come in Italia ci devi pagare l'imu che si chiama ibi poi ci devi pagare l'immondizia che certo non sono tasse eh eh avvoltoie come in Italia però comunque c'hai delle spese che sono certo poi è casa poi è casa tua essendo casa tua la manutenzione è a carico tuo assolutamente perché c'è da dire che qua a differenza dell'Italia se sei in affitto normalmente tutta la manutenzione eh a parte l'usura normale eh se tu rompi qualcosa tuo o per usura allora quella è a carico tuo ma altre cose è a carico del proprietario qua se si rompe lo scaldabagno te lo cambia il proprietario o te lo cambia lui o lo compri tu e lo sconti dall'affitto insomma ci sono delle varie forme però la spesa comunque è a carico del proprietario se sei in affitto non paghi la tassa di nettezza urbana per esempio non paghi il condominio certo certo assolutamente dunque è da vedere esatto considerando che adesso non so meno di 150.000 euro difficile trovare qualcosa ma 150.000 euro parliamo di del bungalow in zona non fronte mare al sud perché se no 170 200 220 250 questo giusto per consensualizzare il bungalow io so cos'è ma noi italiani lo chiamiamo lo chiamiamo duplex sì c'è un bilocale praticamente il bungalow normalmente come qua strutturato sta normalmente in un complesso residenziale che normalmente c'è sempre la piscina poi c'è i bei giardinetti tutto quanto e sono la metratura è 50 metri circa che c'ha una zona giorno un angolo cottura e un bagno poi sopra c'ha un altro bagno e una camera da letto fine ok allora forse forse più villetta schiera chiamiamo noi però sì vabbè sono anche sono tutti a schiera perché sono uno certo esatto però è un bungalow perché è un duplex su due livelli sì su due livelli esatto questo diciamo ci ricollega a una domanda che ha fatto Carlo Alberto nei commenti e già da un po' dire il vero scusaci Carlo Alberto ma ci siamo fatti prendere dall'intervista Carlo Alberto ci chiede invidio il clima straordinario di Gran Canaria sono curioso di sapere quali sono le località più favorevoli per trasferirsi escludendo la costa che a mio parere è troppo affollata e turistica ah e ti pare poco diciamo quindi che lui esclude la costa la costa non lo vuole esatto escludendo questo i costi migliorano un pochino certo nell'interno migliorano un pochino ma andando nell'interno migliorando cioè pagando meno hai anche meno a livello di servizi il tempo è differente perché sulla costa c'è un clima diciamo eterna primavera andando nell'entroterra c'è più cambia un po' cambia un po' ci sono posti ecco San Matteo che sta 30 minuti da qua 30-40 minuti da qua sta nell'entroterra San Matteo fa pure zero gradi certo sì perché piove esatto magari per chi non lo sapesse Gran Canaria come anche altre isole più ci si sposta verso l'interno più le montagne salgono fino ad arrivare al centro che è il punto diciamo più alto dell'isola quindi ovviamente quando si parla di interno si parla anche di una quota che sale esatto e poi oltretutto non stando sulla costa non avendo l'autostrada a tre corsie o a due corsie cioè le strade normali di montagna tutte curve certo e i tempi si allungano se tu poi da lì ti vuoi spostare i mezzi pubblici sono più ci sono perché ci sono ma con orari più dilatati e allora magari ci vuole una macchina sì quindi però è contro però è contro diciamo che però per alcuni potrebbe essere anche auspicabile tutto questo che tu hai assolutamente dipende anche che cosa devi fare se vieni depensionato magari devi stare pure bene se devi lavorare e sei a che ne so a Ghia se tu conosci sta pure questa a nord e magari lavori a Maspalomas sono un'ora e mezza con l'autobus per andare un'ora e mezza andare un'ora e mezza tornare e allora fai pendolare come in Italia e allora vale la pena però a Ghia magari trovi l'appartamento a 600 euro a Maspalomas non lo trovi certo quindi diciamo che quello che puoi risparmiare in parte ti viene poi diciamo sottratto esatto delle spese che in città non hai esatto e poi a Ghia per esempio o a Gaete adesso mi viene in mente a Gaete ci sono i servizi basici ma se per esempio hai un problema tra virgolette serio di salute e devi venire alla Spalmas un gesto scaramare sì facendo le corna ma anche per la burocrazia molte volte devi venire qua devi rinnovare la patente e devi venire qua ma anche il consolato il consolato sta qua alla Spalmas da valutare bene poi ripeto il pensionato magari sì però poi io personalmente come pensionato in questi posti qua sì bello tranquillo non rompe le scato nessuno però poi dopo che un giorno due un mese due tre alla fine a Roma si dice ti dai le chiodate in fronte ecco è un modo di dire che io non conosco ma rende molto bene l'idea esatto poi dipende poi ognuno ognuno c'è il suo stile ovvio ovvio però insomma c'è poco se prendiamo ad esempio magari una persona faccio per dire che magari ama coltivare la terra avere il suo orto è chiaro che va benissimo per lui ha un valore esatto per lui ha un valore va benissimo però ecco per esempio noi ne conoscevamo uno in italiano che c'era una finca cioè questi pensamenti a chi come lo zero ecologici tutto quanto però poi si faceva tutti i giri dei mercatini dell'isola quindi sì quindi è da valutare bene insomma ecco per questo alla fine c'era la macchina e faceva i giri certo ma è appunto per questo che servono i viaggi esplorativi esatto i video di un certo Simone Viaggiatore non so se lo conoscete su Gran Canaria vedete appunto io avevo diviso l'isola in zone proprio perché ogni zona ha la sua particolarità diciamo così e quei video lì secondo me davano un'idea di cosa c'è in quella zona lì perché vedi che è più montagnosa meno montagnosa valli diciamo di montagna un po' meno di montagna quindi davvero bisogna alle Canarie ho imparato a capire che il territorio è un po' tutto cioè il territorio fa molta differenza in base a dove sei territorio ecco per esempio tra nord e sud l'aspetto più diciamo caratteristico al sud è desertico non piove mai se piove se piove farà 5 mm all'anno quando va bene ed è secco non piove mai il brutto tempo al sud è un po' di nuvole e il vento che è la caratteristica principale e lì finisce qui al nord c'è una temperatura anche al sud fa più caldo qui è leggermente più fresco ma non freddo come tanti possono pensare assolutamente non fa freddo qua alla Spalmas ci stanno d'estate tra le medie sono 22-26 e l'inverno sono 18-23 dunque la Spalmas piove poco è molto più nuvoloso quello sì però ci sono giorni in cui c'è il sole pieno magari c'è qui la chiamano nuvolosità periodica durante la giornata magari inizi la giornata che è nuvolo coperto totale dice ma che schifo poi verso le 11 mezzogiorno si apre fa 4-5-6 ore di sole pieno e poi c'è questo giochetto qua ma non è voglio dire una cosa costante accade è frequente però c'è anche le sue bellissime giornate di sole anche qua pieno sole pieno chiaro chiaro sì assolutamente è un posto molto gradevole senza ombra di dubbio poi ecco se sei più amante delle zone se non sei per il caldo 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 quello asfissiante allora è meglio il nord se invece sei una lucertola allora è meglio il sud è meglio il sud però poi se devi lavorare questa storia del nord-sud cade un po' perché poi devi scegliere in base a dove è la tua sede di lavoro assolutamente anche questo ci deve tenere conto certo e a proposito di lavoro diciamo che allora se uno ci sono due due tipi di persone che si trasferiscono possiamo dire così c'è chi si trasferisce per la pensione diciamo così dopo che è pensionata e chi va in cerca di lavoro e chi invece va in cerca di lavoro ma in entrambi i casi servono dei documenti giusto per risiedere sul territorio è certo in entrambi i casi sì esatto c'è tutta una burocratica da fare per avere poi per arrivare al cosiddetto nia verde il pensionato è più facile senza entrare nel dettaglio che per il pensionato è più facile c'è un iter burocratico molto più semplice io l'ho fatto praticamente io sono arrivato il 15 gennaio l'11 marzo ho preso il nia verde quindi hai fatto abbastanza rapido ma perché mi ero preparato prima dall'Italia quando sono venuto qua mi sono aperto il conto la sim spagnola ho fatto il nia bianco e già ero avevo fatto già dei step ok sì quindi sono arrivato e ho fatto presto ma se anche parti da zero da pensionato in due tre mesi ce l'hai chi lavora dipende poi che lavoro da dipendente o da autonomo ha dei tempi un po' più lunghi ovviamente certo il nia cioè per lavorare però basta il nia bianco è il primo step diciamo così primo step assoluto serve quello senza quello praticamente non si fa niente qua non puoi fare nulla niente qua ma in Spagna proprio in Spagna sì sì è una cosa spagnola esatto è come il nostro codice fiscale alla fine sì cosa similare quindi hai bisogno di quello assolutamente per fare queste cose poi se sei autonomo insomma autonomo allora hai tutto un iter se sei invece lavoratore dipendente molte cose sei più agevolato perché te le fa il datore di lavoro e quindi chiaro facciamo risparmi poi poi sui lavori che ci sono quello è un altro discorso a parte che quando me lo domanderai ti rispondo esatto esatto ora sono sono già passati 35 minuti quindi si fa presto il tempo vola il tempo vola rispondiamo a una domanda che ci fa Milena poi proseguiamo nella nostra carrellata Milena ci chiede per trasferirsi ci sono agenzie per il trasloco e per sistemare i documenti sono affidabili se trasferisco i miei oggetti le cose di casa eccetera devo pagare la dogana quindi sono tre domande in realtà quindi se esistono le agenzie per il trasloco e per il sistema dei documenti sì l'abbiamo detto prima ci sono che sono affidabili devi cercare io conosco però non faccio pubblicità a nessuno conosco perché sto qua da dieci anni conosco però non mi sento di suggerire niente perché ovviamente poi ognuno deve voglio dire informarsi bene su quello che offrono queste agenzie e valutare non fermarsi alla prima valutare perché c'è un mercato anche in questo qua di prezzi c'è chi chiede 100 chi chiede 50 chi chiede 20 poi sta a te il consiglio è sempre lo stesso vieni a farti una settimanella a qua a studiare come si deve eccetera eccetera per capire come funziona e soprattutto anche tastare il terreno di queste agenzie stando qua e vedendo le persone in faccia ok certo ci sono quelli che fanno i trasloghi assolutamente sì e la dogana dipende si può pagare o non pagare perché se tu fai il container dopo che hai preso i miei verdi allora non paghi ah interessante perché sei residente invece se lo fai se lo fai da una diretta così cosa può venire fuori un consiglio preziosissimo direi molto prezioso e comunque i container non è più come una volta costano ebbè questo sì costano costano siamo nell'ordine delle migliaia di euro ecco esatto io mi ero informato anch'io perché sai che non lo nascondiamo anch'io come tanti che sono stati alle Canarie qualche pensiero ce l'ho fatto e appunto e anch'io avevo buttato un occhio sui costi dei container mi pare visto le 1200 una cosa così 1200 euro circa ma questo quando un paio d'anni fa sali sali salgo ancora la doppio eh perlomeno poi comunque sì ma poi dipende da quanta roba ti porti appresso anche quello eh sì certo perché poi ricordo che c'era l'opzione del mezzo container o del container intero in base a quanta roba uno ha allora ci sono pure altre due opzioni l'opzione che del container ok magari se trovi un'altra persona condividi il container e ti mezzi le spese altra cosa questo perché ci siamo passati sulla mia pelle eh devi venire qua ti devi trasferire fai il traslogo butta tutto butta eh sì eh lo so che è difficile ma but voglio dire non è che devi buttare tutto però butta tutto quello che effettivamente eh ma la tazzina che mi ha regalato eh ciò che così se fai così non butti niente in tante persone che si sono trasferite butta nel senso che puoi buttare ma anche vendere perché oppure puoi regalare regalare eh io ho venduto regalato e buttato nel vero senso della parola certo sì diciamo che uno deve portare proprio l'essenziale quello che anche perché non può vivere anche perché qua c'è tutto si ritrova tutto per comprare tutto ma proprio tutto sì 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 esatto questo non è che qualcuno mi disse ah ma tu vai là eh ma lì ci stanno i masai che ti tagliano la testa e i cammelli mi hanno detto sì sì i cammelli a Maspalomas ci sono questo è vero però anche a Lanzarote ci sono però appunto altimanfaglia esatto esatto no e diciamo che allora sulle Canarie ci sono davvero delle idee strane cioè nel senso c'è chi pensa che siano appunto che sia un paese diciamo sottosviluppato no un paese stranissimo per dove sono ammetto che anch'io prima di visitarle non dico che la pensavo così però dicevo se sono laggiù non posso aspettarmi quello che ho magari a Madrid ecco cioè come servizi invece in realtà non è così sappiamo che non è sul livello di servizi sulla qualità magari lasciamo perdere la qualità ma sul livello dei servizi c'è tutto funziona tutto molto meglio che in Italia assolutamente i servizi ci sono funzionano qui è tutto molto automatizzato tutto molto digitalizzato più che in Italia credo quindi sul livello su questo tipo di cose assolutamente anzi certe cose siamo pure all'avanguardia infatti e quindi a livello di sanità tu ti sentiresti di dire che è tutto tranquillo la sanità qui va bene andava bene pure prima dopo il covid c'è stato il problema che c'hanno un po' tutti qui i tempi di attesa soprattutto nel pubblico ma anche nel privato dipende dalle patologie i tempi si sono allungati allora poi sul settore pubblico diciamo che va tutto bene a livello diciamo di professionalità di medici e anche a livello di come si dice in italiano adesso dobbiamo dirlo in spagnolo è il trato il trato cioè il trattamento ecco il trattamento umano il trattamento umano qui ancora c'è non sei un numero ma questo è importante non sei un numero quindi da questo punto di vista sia nel pubblico che nel privato va bene sul pubblico ci sono dipendendo dalle patologie liste di attesa anche lunghe c'è niente da dire ci sono anche lunghe anche tre quattro sei mesi dipendendo dalla patologia poi c'è per esempio se devi fare le analisi del sangue io me le hanno segnate le ho fatte dopo quattro giorni col servizio non pagando nulla tra l'altro mi hanno dato anche il contenitore dell'ulina però però organizziamo adesso cambia in base alla regione però da noi qualcosina si paga se non hai patologie no no poi voglio dire sulla qualità dei medici i medici sono sono buoni sono professionali e sono preparati poi ovviamente tutto il mondo e il paese anche qui ci sono le capre ebbè questo è purtroppo evidente fa parte del gioco cioè non è che in Italia le capre non esistono di medici ce ne sono di caproni e anche qua e anche qua però diciamo che la media è buona la media è buona esatto per quello che vale per quello che vale io posso testimoniare che un amico che vive alle Canarie che conosco anzi vive proprio a Gran Canaria tra l'altro se mi sta guardando lo saluto ciao Simone e lui si chiama Simone pure lui si chiama Simone pure lui esatto ma non ha un canale youtube così non vi potete confondere da parte dei scherzi lui ha avuto un problema di salute che io definirei piuttosto grave adesso non entro nel dettaglio perché non è non è la sede però ha ricevuto un intervento di alta chirurgia proprio lì a Gran Canaria una cosa che persino qui in Italia non tutti gli ospedali fanno così tranquillamente era un intervento diciamo molto molto particolare di cardiochirurgia e quindi insomma ha potuto farlo lì alla spalma qui fanno adesso stanno facendo degli interventi ho letto qualche giorno fa interventi sempre di di cardiochirurgia adesso non mi ricordo esattamente perché anche perché scrivo molto e per cui le notizie le scrivo però poi alcune le tengo altre le perdo non si può tenere tutto e comunque si erano di cardiochirurgia cuore aperto non mi ricordo esattamente delle fesserie e comunque sì ci sono delle specializzazioni anche qua alta specializzazione senza problemi non c'è bisogno di andare a Madrid a Barcellona le puoi fare tranquillamente qua io ho fatto nel 2016 ho fatto la cataratta a tutti e due gli occhi direttamente in Italia si faceva ancora prima un occhio e poi l'altro io l'ho fatta direttamente contemporaneamente sono entrato alle 4 e mezza alle 5 me ne sono andato via e sono cambiato da così a così immagino immagino sì laser di ultima generazione esatto l'ho fatta con l'assicurazione però l'ho fatta col servizio urbino ecco anche questa cosa dell'assicurazione è interessante nel senso che io giuro non ho capito alla fine perché non ho capito se quando si arriva dall'Italia per avere il NIE che appunto è questo codice fiscale occorre avere un'assicurazione sulla salute privata oppure no se sei pensionato non ne hai bisogno perché fai il modello S1 e praticamente con il modello S1 hai diritto al servizio sanitario spagnolo e praticamente tutte le prestazioni offerte dal servizio sanitario spagnolo poi vengono ricaricate in Italia quindi pensionato sia pubblico che privato? esatto sì sì senza problemi pensionato può fare non ce ne ha bisogno a meno che lui la voglia avere io ce l'ho io ce l'ho e posso giocare su due fronti capito? chiaro sul pubblico e sul privato chiaro chiaro chi viene invece da dipendente da autonomo deve obbligatoriamente fare un'assicurazione per 12 mesi pagamento anticipato ok ok quindi diciamo che il governo canario vuole essere sicuro che per 12 mesi tu sei autonomo da questo punto di vista il governo canario vuole che c'hai un tetto sulla testa fondamentalmente i requisiti sono un tetto sulla testa vuole che c'hai un'assicurazione o comunque sei coperto a livello sanitario perché ci devi avere un reddito sufficiente per mantenerti che sia pensione lavoro autonomo quello che vuoi tu vale anche un diciamo un deposito un conto corrente puoi anche puoi anche diciamo ma io ho un milione di euro in Italia sul conto corrente se hai un milione di euro glielo dimostri ovviamente dimostrando però l'assicurazione la devi fare uguale anche per il milione di euro chiaro 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 quindi davvero guarda ecco tutte queste queste informazioni ovviamente poi le ritroviamo sul tuo blog o sul tuo canale c'è una sezione proprio dedicata domande e risposte dove c'è un po' di tutto chi ci avvoglia va là domande e risposte ta 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 è davvero prezioso è davvero prezioso sia il tuo blog che il tuo canale tutti e due grazie no ci mancherebbe è la verità sennò appunto non saremmo qui a parlarne abbiamo un commento fresco fresco di Attilio che ci chiede com'è il supporto consolare se uno necessita dei servizi di patronato sindacale ci sono delegazioni italiane patronato sindacale cioè sì immagino che si riferisca ai patronati non so quelli della CISL della CGL ah sì c'è il patronato a Barcellona qui non c'è c'è il patronato Ita Will si chiama sta a Barcellona e ero per esempio per me che faccio l'esistenza in vita ogni anno me la fanno loro non pago niente gli mando tutto via email telematicamente ecco giusto qui c'è solo il servizio consolare qui c'è un vice consolato onorario senza soldi onorario e poi c'è il vice consolato di Arona a Tenerife con i soldi ovviamente sì dove lì praticamente si fa quasi tutto qui puoi fare il passaporto per esempio anche questa stranezza a Gran Canaria puoi fare il passaporto ma la carta di identità te la vai a fare a Tenerife caspita sì è davvero sono stranezze non so se dire italiane o spagnoli non so non lo so ecco di sicuro io a Tenerife però ho visto un patronato della CISL sono sicuro sono sicuro che ve l'ho visto ed è a San Isidro giusto come informazione quindi se non a Barcellona si può andare forse a San Isidro vabbè ma oggi telegramaticamente loro fanno moltissime cose per cui qui c'è solo il supporto del come si chiama del vice consolato onorario poi c'è periodicamente perché lo leggo l'ho visto l'Itawil il patronato di Barcellona viene in missione qui a Gran Canaria e va anche a Tenerife e ci sono due rappresentanti una di queste due si chiama Elettra Cappone e viene qua magari raccoglie istanze eccetera eccetera poi va a Tenerife e poi se ne ritorna a Barcellona certo 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 quindi sì diciamo che i servizi anche alcuni di quelli che siamo abituati ad avere in Italia non mancano no da questo punto di vista ci sono basta seversi un po' organizzare l'importante oramai è per anche quelli oramai penso pochi spero sei qua di avere un computer e una connessione internet perché sei morto certo quello devo dire che aiuta sempre anche in Italia ormai ci vuole c'è poco da fare no ma qui di più qui di più ovviamente perché sì poi immagino anche tutte le varie cose che servono per accedere ai siti italiani quindi non so lo speed tutte queste cose io per esempio ho fatto lo speed io ho lo speed e l'ho fatto da qua non è che sono andato in Italia l'ho fatto automaticamente da qua ho pagato 20 euro però insomma l'ho fatto no ci sta diciamo che ecco puoi fare tutto è chiaro che se in Italia hai anche l'opzione di fare le cose di persona quando sei alle Canarie o ritorno in Italia però diciamo mi sembra l'assurdo venirci apposta voi probabilmente mi sentite parlare e basta ma adesso io risolverò questo problema intanto parliamo io ti vedo ti vedo mi vedi bloccato sì mi vedi bloccato adesso risolviamo magicamente questo problema nel frattempo ti faccio un'altra domanda sì così intanto continuiamo dal punto di vista culturale tu hai notato delle differenze significative rispetto all'Italia cioè ci sono diciamo modi di fare dei canari che sono particolarmente diversi adesso te ne sei andato sì sì adesso arriviamo subito sì ci sono ci sono mi senti giusto ti sento ti sento perfetto perfetto non ti vedo però ti sento adesso mi rivedrai fra un attimo nel frattempo vuoi rispondermi a questa domanda qui tanto io riaggiusto la webcam ok a livello culturale sì chiedevo se diciamo la cultura dei canari è molto diversa da quella italiana se ci sono abitudini molto diverse abitudini generali diciamo no diciamo siamo abbastanza affini poi però sul livello culturale allora lì ne possiamo parlare perché qui il livello culturale è estremamente basso detto proprio come me la sento interessante estremamente basso il livello culturale e anche l'offerta culturale ovviamente ci sei sì sono tornato un po' più brutto di prima ma ci sono sì l'offerta anche culturale senza offendere nessuno ma poi dipende perché ci sono un sacco di persone dipende pure da dove vieni dall'Italia se vieni da città come Firenze non so Venezia Roma Napoli c'è molta offerta culturale e allora detto proprio come come si dice a Roma qua non c'è sta niente c'è poco c'è poco e quel poco che c'è tranne rare eccezioni è tutta un'offerta di serie B come definisco l'offerta quella buona culturale buona di prima qualità è in penisola non è qua difficilmente qualcuno che va in penisola viene a fare le tournée qua difficilmente parlando di professionisti di serie A sì 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 diciamo che è un aspetto che cioè secondo me fa parte di un discorso ancora un po' più grande cioè credo credo che chi viene a vivere alle Canari deve comunque essere molto consapevole esatto che è un arcipelago ed è in mezzo al mare sembra una malità da dire però così ma anche perché per i suoi trascorsi storici qui insomma non è che voglio dire c'è poco veramente poco e tu intendi dal punto di vista dei monumenti anche loro sono bravi loro sono bravi perché valorizzano pure pure come a Roma i cocci che noi chiamiamo i cocci pur i sassi però è vero che hanno oggettivamente hanno delle cose però insomma se vogliamo metterle bastano le due dita della mano sono sufficienti poi vabbè ci sta la cosa che però insomma sono cosette io io stesso appunto sono stato colpito molto più dalla natura dell'arcipelago esatto dal punto di vista naturalistico allora sì io vado a fotografare quindi possiamo parlare dal punto di vista storico culturale è quello che è è poco certo e c'è poco e quindi non ti aspettare di trovare una grande offerta culturale e di conseguenza non avendo una grande offerta culturale non avendo anche diciamo offerta di serie A ma solo di serie B anche il livello della popolazione culturale è basso medio basso qui c'è gente che non è andata neanche a Tenerife la Gran Canaria qui quando vanno in vacanza vanno a Mogad per capirci sai che questa cosa questa cosa io la riscontro anche in molti italiani che vivono nell'arcipelago cioè chi vive a Tenerife gli chiedi ma sei mai andato a Ierro? no sei mai andato anche io ci sono andato ogni riferimento a cose e persone era casuale no però a parte a parte gli scherzi davvero anche altri amici che vivono a Gran Canaria gli dici sei andato a Tenerife no magari sono dieci anni è così è così ovviamente il Ierro non è che stimola molto voglio dire ho fatto un esempio estremo a Ierro abbiamo visto che si tratta di andare a Tenerife io sono stato a Tenerife a Palma a Lanzarote quella è un'altra lì in Quattaventura però voglio dire Ierro e la Gomera non ci sono stato però sostanzialmente non mi attirano molto devo dire questo è comprensibile però Tenerife sei stato certo certo ci sono stato certo sono stato a Lanzarote sono stato a Palma assolutamente però detto anche questo voglio dire qui il livello perché anche ovviamente non c'è una grande offerta non c'è un anche una grande offerta culturale il livello dei canari è quello che è c'è poi una c'è poi una frangia una nicchia acculturata ovviamente ma la devi andare a trovare perché è facile perché io la valuto intorno al 5-10% non di più qui ma se ti dico che per esempio questo poi non per smontare le canari però è la realtà se tu se io ti chiedo a te italiano no emiliano se io ti dico a te ma tu sai che cosa sono i cannelloni ovviamente mi direi di sì se qui chiedi a un canario come ho chiesto parlando così ah ma sai ho provato il salmoreco o il gaspaccio come che è addirittura eh che è e allora vi ho dovuto spiegare io che cos'era hai capito ma dico ma scusa lo vendono al supermercato non l'hai mai provato poi cominciamo a parlare così sicuramente diriva dal fatto anche che sono isole sono isole sono lontane dalla Spagna probabilmente anche questo un po' e poi ecco ti posso dire per il livello culturale per esempio mio figlio che adesso fa un altro tipo di lavoro però lui è laureato in lingua ha l'abilitazione per l'insegnamento dello spagnolo e dell'inglese per gli stranieri ha lavorato ha lavorato per un anno a un'accademia si chiama un centro linguistico privato dove faceva lezioni di inglese per gli spagnoli per i locali qua spagnoli di vari livello 1 a 2 b1 b2 eccetera eccetera e me l'ha raccontato lui ma sai che stasera io ho dovuto spiegare i verbi ausiliari ai spagnoli perché parlando diceva come in spagnolo anche in inglese ci sono i verbi ausiliari in spagnolo ce ne sono quattro e in inglese ce ne sono due ok e uno gli chiese ah perché noi abbiamo quattro verbi ausiliari in spagnolo siamo a posto sì allora diciamo che probabilmente anche in Italia non andrebbe molto bene questa domanda c'è da dire anche questo sì però questo era pure adulto non era un ragazzino una persona in rallavorativa insomma si presuppone che un minimo è la tua lingua un minimo certo diciamo che allora per riassumere se l'italiano che parte per trasferirsi alle Canarie è un italiano che qui va faccio un esempio va al teatro dell'opera tutti i sabati va in giro per mercatini esatto no per mercatini va bene ma dell'antiquariato eh mercatini dell'antiquariato magari ma quale antiquariato non so quale antiquariato mercatini che dovrebbero non c'è un frusaglio no appunto dico oppure non so un altro esempio se una persona che tutte le domeniche va a vedere un museo diverso che è una bella lotta appunto magari le Canarie non sono il posto che fa per lui ecco se rimani su un'isola puoi fare il giro dei musei in un mese hai finito tutto anche quelli più sì certo ma allora diciamo che per fare un'ipotesi se in Italia avessimo fai conto un arcipelago che anziché avere un'isola d'Elba ne ha otto o meno sì è quello cioè spostalo in mezzo all'oceano è chiaro però poi le dinamiche strane sono che l'arcipelago canario fa che è più piccolo di tutto di tutta l'Umbria come territorio come estensione l'Umbria fa un milione e mezzo di visitatori all'anno e canarie ne fanno sedici eh sì 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 questo è perché perché sono stati bravi a promozionare bene da questo punto di vista loro sono attresi cioè per farti fare la vacanza per farti stare bene per una settimana dieci giorni quello che è due settimane tu hai tutto qua non ti manca solo niente te lo fanno pagare perché te lo fanno pagare perché non ti regalano niente però vivi la tua settimana dieci quindici giorni da Dio bene dipendendo poi anche dal tuo budget ovviamente perché qui puoi spendere cento ma puoi spendere anche mille euro a notte ah sì sì assolutamente ci sono tutti i livelli esatto è così esatto a proposito di appunto di di questo aspetto qui cioè del fatto che le Canarie sono molto visitate da un punto di vista del turismo e anche dell'aumento dei residenti no ultimamente abbiamo visto succedere qualcosa sotto questo aspetto cioè qui in Italia è arrivata un po' la notizia che i canari si sono stancati sostanzialmente c'erano tante notizie sui giornali nostri che dicevano i canari non vogliono più turisti più o meno così eh sì ho letto e io mi chiedevo se era vero cioè se era proprio così oppure se non è proprio così non è proprio così anche perché loro lo sanno benissimo sono coscienti che se non ci fosse il turismo qua sarebbero ancora coi cammelli veramente eh immagino ecco per cui non è quello ma è il fatto che tutta questa parte comunque ovviamente i turisti sono tanti perché 16 milioni di turisti sono 16 milioni di turisti anzi quest'anno prevedono che supereremo i 16 milioni quindi quest'anno sarà da record così dicono le cifre sono dice che saranno da record va bene per cui rimaniamo con i 16 milioni ma questi 16 milioni in ogni caso che vengono ovviamente devono essere spendono fanno tutto quanto ma i servizi e le strutture per questi 16 milioni di turisti che arrivano è ci sono non ci sono per tutti quanti specialmente se andiamo a Lanzarote e Fuerteventura certo Lanzarote c'ha 150 mila residenti ok durante il periodo dell'alta stagione arrivano a quasi 3 milioni sì basta questo numero no? assolutamente però c'è una rete idrica che perde il 50% dell'acqua e ci stanno le interruzioni quotidiane c'è un sacco di posti a Lanzarote che stanno senza acqua o varie ore al giorno o giorni interi sì sì anche a Fuerteventura poi se stai nel megacentro residenziale 4 stelle 5 stelle queste cose non le vedi ovviamente però funziona così aspita e poi e poi voglio dire questa tutta queste persone che arrivano e generano ricchezza portano soldi eccetera eccetera questi soldi non vanno in tasca ai canari al canario medio il canario medio è povero i soldi vanno in tasca alle multinazionali agli imprenditori e ai politici ricordiamo ricordiamo anche che gli stipendi canari non sono già sono bassi nostri in Italia i canari sono ancora più bassi quindi questo è bene dirlo perché allora ti lo dico perché l'ho fatto proprio l'altro ieri perché ci ho fatto un post su su Lego Gran Canaria quindi si parlava di salari spagnoli e canari ma anche la Spagna anche la Spagna paga poco molte volte molte volte i stipendi sono più alti in Italia che in Spagna per determinati nonostante nonostante il salario minimo esatto nonostante il salario minimo c'è poi da dire un'altra cosa o te la dico che comunque per esempio il salario medio di perché qui vengono tutti per la ostelleria per i turisti ma il salario medio basta andarsi a informare basta un pochino cercare non è che mi posso mettere qui a far il grafico però il salario medio sono 1500 1600 euro al mese lordi il salario più alto ma devi essere chef primo cameriere il salo altre cose devi avere un profilo più alto nell'ambito del settore arrivi anche a 1900 euro lordi lordi significa che poi sono 1600 netti i 1600 netti di chi piglia 1600 diventano 1300 1250 la media è 1100 1100 1200 i 1200 diventano 900 netti 950 ok visto quello che ci siamo detti prima si fa un po' fatica esatto poi voglio vedere come fai con 1000 euro anche con 1300 netti ad arrivare alla fine del mese se ne devi pagare almeno 600 650 quanta d'affitto diciamo che se si è in due forse si può fare con due stipendi così forse due stipendi così 1300 1300 2 6 diciamo che sì non fai una gran vita però ci arrivi poi c'è un'altra cosa fondamentale non lo so in Spagna penisola ma qua sì lo so per certo ne ho visti così tanti ti fanno il contratto indefinito indefinito come lo chiamano a tempo indeterminato bene lavori otto ore te ne pagano quattro sulla busta paga e le altre quattro sono in nero per cui tu per cui tu cotizzi aspetta cotizzare vuol dire prendi i contributi sì per quattro ore non per otto ore lavori dieci anni hai i contributi per cinque sì o per un part time esatto insomma lavori dieci prendiamo la metà di contributi ok funziona così il 90% funziona così tutto il mondo è paese davvero mi viene da dire è vero è vero sì ecco questo tipo di adesso tornando serio un attimo per cui sì sì no per cui la gente che mi dice papà io vengo esatto le sai tutte queste cose le sai infatti poi ti posso aggiungere chicca finale perché mi ricordo questo dato sempre sugli stipendi e beh nel settore pubblico un medico affermato insomma primario in ospedale ma prende 43 mila euro l'ordi l'anno su 2 mila euro al mese 2 mila euro sì 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 non mi sembra una gran cifra no 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 oggettivamente no allora per certi versi la Spagna non paga tanto che sia chiaro se tu vieni con il tuo budget dall'Italia o lavori da remoto o in altri modi da autonomo e generi delle delle cifre più alte allora sta bene ma se stai a livello impiegato dipendente i stipendi in Spagna sono bassi poi è così è così ecco appunto riassumendo tutto quello che ci siamo detti questa sera diciamo io vorrei essere chiaro nella chiusura di questa diretta non è che è impossibile trasferirsi alle Canarie sicuramente non è che è un posto che non apro nulla anzi ci siamo detti un sacco di diciamo che diciamo che anche nel mio canale ci sono tantissimi video che fanno vedere tutto quello che c'è di bello alle Canarie il clima è incontestabile non fa freddo non ti devi mettere i vestiti pisanti la benzina costa di meno l'escattamento non c'è c'è una certa tranquillità sociale che in Italia non c'è più però poi questo è il lato buono e poi per il resto però ci vuole un certo portafoglio perché se no non ce la fai e poi ci sono determinate realtà la retta è cambiata rispetto a qualche cosa bisogna tenere conto di questo e poi imparatevi pure lo spagnolo perché se no non sarebbe male quello aiuta perché non basta aggiungere le s esatto perché se no mi accompagni dal medico mi accompagni in banca non capisco niente di qua di là insomma ragazzi esatto altrimenti Emilio deve poi fare troppi favori diciamo non è qui ci sono molti italiani che soprattutto la fascia di età dai 50 in su i giovani vanno molto meglio ma quelli dai 50 in su la maggior parte di quelli conoscono non parlano spagnolo e fanno il ghetto sono ghettizzati andiamo al cinema che ci vado a fare non capisco niente ho capito sì anche questo è un rischio che va considerato assolutamente cioè trasferirsi va benissimo però con mente aperta con la predisposizione da apprendere ecco perché altrimenti lo spagnolo c'è una coincidenza lessitale dell'83% se non imparate lo spagnolo siete proprio cioè proprio tu dici se c'è una lingua che si può imparare è quella esatto per un italiano è proprio facile basta un po' di impegno un po' di impegno niente di più vero vero io posso un po' testimoniare perché cioè è vero che anch'io insomma come dire le lingue un po' le conosco però quello che so di spagnolo l'ho imparato sostanzialmente da libri da applicazioni sul cellulare e mi sono accorto che con un po' di impegno si impara ecco quando vado quando vado in posti che lo parlano so farmi capire parlo anche di argomenti poi se vivi sul posto ci sono le scuole di idioma che costano quattro soldi veramente con cento euro ti fai tutto l'anno scolastico voglio dire soprattutto se sei pensionato cosa devi fare hai tempo per poter studiacchiare un pochettino e poi avere un'indipendenza linguistica che non devi stare sempre a oddio non ho capito oddio qui qua oddio di là a meno che tu non abbia diverse pagine web canali come hai tu che allora il tempo manca sempre mi accompagno che c'è scritto qua mi accompagno va bene ok va bene quindi allora ricapitolando se andate a vivere a Canaria chiedete a Emilio che vi porta dal medico lui sicuramente no stiamo scherzando però il medico e la banca sono cose importanti no sono importanti se non ti sai soprattutto se non ti sai esprimere ma che voglio dire no no certo è fondamentale diciamo almeno saper descrivere come uno si sente io non dico che devi diventare un traduttore ma avere un'indipendenza minima che ti consenta di esprimerti certo chiedere aiuto se basilari sarebbe auspicabile invece c'è gente che è proprio rifiuto totale va bene va bene che dire io non vedo commenti da parte dei nostri follower quindi direi che abbiamo coperto un po' tutto quello che ci eravamo prefissati credo di sì quindi prima di salutarci io vorrei approfittarne per due informazioni di servizio allora appunto la prima è quella di andare a vedere il canale youtube di Emilio che si chiama Italiano alle Canarie lo ricordiamo di nuovo si chiama Italiano alle Canarie anche il blog che Emilio diciamo conduce quindi italianolecanarie.com e per finire la pagina facebook di Leggo Gran Canaria che anche questa vede degli articoli scritti dal nostro Emilio che devo dire ci ha dato un'idea veramente molto approfondita non lo so se ho smontato diciamo i sogni di qualcuno però io preferisco speriamo di no noi speriamo di essere diciamo più positivi però insomma meglio meglio sapere che far finta o illudersi di cose che anche perché come dicevamo di quello che di bello all'isola è pieno è pienissimo su internet troviamo di tutto di tutto Silvana ci saluta noi ricambiamo ciao Silvana ciao a tutti io devo fare però la seconda comunicazione di servizio ossia molto presto mi vedrete in Repubblica cieca quindi come siete abituati a fare diciamo tenete d'occhio il canale perché magari ci sarà qualche diretta qualche fotografia fresca fresca durante il viaggio per cui io vi saluto grazie anche a voi alla prossima e salutiamo Emilio che ringraziamo di nuovo ciao grazie a te Simone per avermi ospitato è stato un piacere ci risentiamo prossimamente assolutamente vedremo di organizzare magari un'altra diretta per aggiornamenti se ce ne saranno va bene va bene buona serata a tutti ciao buona serata